C'è un tema importante a Trieste, lo conosciamo, pensavo incidesse di più sul voto, purtroppo o non siamo stati noi bravi a comunicare bene la nostra proposta oppure uno dei temi, la Ferriera ma anche Portovecchio e altri, non sono stati reputati importanti in questo voto, in questo turno. Io ho segnato questa dichiarazione di Paolo Menis perché non è da sottovalutare, è un puro sillogismo evidentemente, è ovvio però se Menis dice voglio proprio vedere se gli elettori del Movimento 5 Stelle possono al ballottaggio appoggiare Roberto Cosolini vista le decisioni sulla Ferriera, in effetti questo potrebbe pesare, è un dato interessante. Dopo che anche Di Piazza abbia per due volte governato e non è riuscito a risolvere, è anche un dato di fatto, però l'ultimo sindaco ha più responsabilità.